ciao amiche da casa ben ritrovati per questo nuovo appuntamento relativo al trucco allora oggi vi insegneremo il contouring il contouring è molto importante per noi drag queen quindi mi raccomando ragazzi seguite con una certa attenzione tutto quello che vi diremo iniziamo da una base chiara la base chiara deve andare a evidenziare le parti centrali del viso noi in questo caso abbiamo un prodotto della Criolan come potete notare fatto in casa allora iniziamo seguitemi grazie con mettere tutta la base chiara ovviamente dopo aver coperto anche le sopracciglia solo nella parte centrale del viso non eccedete col prodotto ovviamente cercate di dosarlo per fare in modo che ecco che rimanga bello compatto sul viso perfetto ovviamente io le occhiaie se hai le occhiaie allora devi usare una parte un pochettino più aranciata bene ecco qua perfetto una volta che abbiamo messo in evidenza diciamo queste zone iniziamo con i giochi di contrasto con ecco la base le parti più scure e poi sono più indietro quindi maestra perfetto un attimo mi scusi la bambina da una ragazza no perché ovviamente le devo le devo spiegare io signora col pizzetto ovviamente io sono iniziato a fare già un po di sfumatura perfetto perfetto adesso dopo aver fatto questa base ciana passano invece al contouring con le sfumature di chiquita boom boom quindi andiamo a prendere la base più scura e la mettiamo picchiettando tutto intorno alla fronte mi tocco di merda anche con la dove andremo ovviamente insomma così a creare il contrasto che serve anche poi per la parrucca poi evidenziamo lo zigomo anche il naso prima lo zigomo guarda guarda con lo zigomo però è perfetto guarda questo effetto naturale ma donna e guarda il mio ecco tu secondo me dovresti mettere un altro un po più di bianco sì e poi ovviamente sotto il mento così ecco in questo modo che nasconde sembri noi che siamo bene rotondette giusto oh però guarda come prendere bene veramente meglio della crioccia ma no guarda come copri gli occhiali a me si vede ancora la barba guarda però sapete che siete più belle del solito stasera ecco ma il blush non lo mettiamo allora un attimo una volta che abbiamo terminato diciamo questa fase andiamo a abbiamo del rossetto vogliamo mettere il rossetto abbiamo questa splendida nuance il rossetto è a base granulosa io faccio anche un po di contrasto col dorato sì allora il rossetto ovviamente andate ad allargare le labbra allora siamo un po il contorno labbra che comunque insomma ci dà questa sicuramente un'immagine un po più femminile allora una volta io ho visto un tutorial di sintetica cartel dove diceva che il bianco allarga anche le labbra allora allarghiamo le labbra però si mette solo corne, un conto centrale e sopra è che poi vedi guarda 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 tutta un'altra cosa lo stesso colore che avete usato per il rossetto lo potete usare come blush quindi all'inizio dell'ossidomo in questo modo ah vedi che va a sfumare con quell'altro guarda guarda che carino ovviamente ragazzi questi sono dei consigli di base seguitevi esercitatevi perché è assolutamente il mondo migliore per iniziare il trucco grazie alla prossima un po di bianco ancora grazie a tutti